bene abbiamo iniziato per craterina ciao a tutti ciao dimmi se la vedi già bisogno di un conteggio ma la vedo c'è lei che arriva verso di noi e ha dietro un po di gente che vuole avvicinarsi e lei li manda via di stare in silenzio perché lei vuole ascoltare quello che abbiamo da dire noi ci dà l'autorizzazione sì sì come la vedi è lei lo vedo è proprio lei ok e questi che vogliono il suo aiuto chi sono disincarnati entità un po un po quanti sono in tutto 27 divisi in disincarnati e non quanti e quanti 15 disincarnati ci sono 12 entità che entità disincarnati vuole più se si è l'entità che vogliono l'entità vogliono anche un aiuto sì per cercare di sì esatto sono facendo fin si 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 cercano di camuffarsi un po c'è ce ne sono alcuni che sono si fanno vedere come se fossero animali no alcuni sono umanoidi ok queste 12 entità di farli ma interferiscono con lei ci provano che non sono quelle che le intercettiscono no no sono altre quali sono quelle che interferiscono con lei chiamiamo le sue entità e teri che vediamola ma in realtà ci sono c'è un falco uniforme di quelle eteriche e poi ce ne sono due mentali di che livello livello 24 come sempre sento schema da una si occupa di cose lievi una si occupa di cose un po più strutturali va bene quali cose lievi di quali cose devi si occupa la 2 allora la 2 si si occupa di è quella che fa sì che lei faccia le cose quando anche quando lei non le vuole fare no di 7 al contrario no con caterina è molto particolare questa cosa perché la vedevo già prima devono agire al contrario con lei perché già spero mi non ho capito che se tendenzialmente essendo capace di comunicare molto con la sua ps ok l'entità mentali lei tendenzialmente tende a c'è a dare la responsabilità della sua vita di quello che succede nella sua vita se stessano quindi se fa una cosa tendenzialmente dice prova a farla ma non è che magari c'è non ho magari tutti gli strumenti per farla perfettamente quindi io provo a farla e faccio del mio meglio no oppure appunto quando c'è qualcosa che la ps sa che non deve fare perché può mettere in pericolo oppure che non è la via giusta che non è la direzione giusta lei seguirebbe la sua ps e non la farebbe ok quindi verso la sua evoluzione verso il suo benessere e queste due entità mentali e devono agire in questa maniera quindi far sì che lei invece vada di solito la ps cosa fa ti dice vai e l'entità mentali ti trattengono ok in questo caso la ps la ferma perché lei è una che comunque fa le esperienze quindi quando c'è qualcosa che che non va la ps dice stai ferma invece l'entità mentale di livello 2 le dice vai quindi poi lo analizziamo comunque la 2 che ha otto anni le ha detto vai vai e lo stesso o l'altro caso in cui lei è andata a ballare poi è caduta adesso lo analizziamo e capiva sapeva che non doveva andare si è andata lo stesso invece la 4 la 4 è quella che le enfatizza un po le sue capacità medianiche soprattutto quindi lei riesce a comunicare molto con la sua ps vede le cose vede anche alcune cose sa già alcune cose del futuro così l'entità di livello 4 fa sì che lei le enfatizzi quindi e anche le distorce un po c'è alcune cose che che invece non sono date la sua capacità ma sono delle interferenze fa sì che lei le percepisca come le sue capacità così continua a farle e le continua a fare in maniera molto c'è di più enfatizzata no enfatizzata in natale che mettendoci esponendosi esatto esponendosi e quindi poi loro possono interferire diciamo facendolo in maniera non strutturata non cauta non tu sei così tu hai poteri fallo buttati sono un po disperati però perché il filo diciamo del il punto in cui caterina può scappare e legarsi da sola è molto molto labile se stanno giocando l'ultima carta questo è un modo di di gestire un cavallo pazzo alla disperata perché se no non si può gestire un cavallo pazzo non sa che se da due calci le ammazza tutti quindi non so lo irritano ancora di più lo fanno diventare non sono venuta questa idea del cavallo pazzo nel recinto no gli fanno vedere il fuoco così si 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 eccita si sovraeccita si prende fuoco nel suo nel suo campo nessuno modo di essere che invece va strutturato compreso e quindi poi scatenato in una maniera giusta la maniera canalare però quadrato capacità con se inquadrato ok bene solo solo il falconiforme quindi si falconiforme si e dl ci sogni dl assolutamente sì sì ce ne sono quattro perché dove ci sono entità mentale ci sono i sopra il falconiforme seo studi no vabbè sì sì secondo universo ci sono no vede sempre poi si dona ormai lo vedo abbastanza lontano sedone lontanissimo sperato molo che tipo dietro alla vetrata ok nel caso di caterina possiamo dire che le categorie di interferenza possono essere tre perché caterina è una raccata disincarmi infatti c'è un entità mentale di livello 4 presente jazz married no le 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 lattine attaccate con la corda alla macchina se ne va è piena di lattine che se ne va in giro con le lattine a cordicella ci ridiamo anche tu hai voglia di riderci però insomma più o meno tanto bene sono 15 disincarnati tutti in fila tipo riconoscimento del dell'assassino tutti assassini tutti ea tutti la sua domanda che volete allora alcuni vogliono interagire con la terra cioè sto generalizzando però ce n'è tipo ce ne sono tre che non sanno di essere morti e quindi vedo questi tre che cercano di parlare con persone che conoscevano in vita ma non ci riescono e invece hanno provato con lei e lei li sente quindi si sono attaccati cercano di attaccarsi a lei poi ce ne sono ce ne sono altri che invece sanno di essere morti ma vogliono interferire vogliono interagire con i loro familiari e quindi sono stati attratti dalla sua energia per cercare di interagire con i familiari tramite lei e ce ne sono e gli altri invece che vogliono andare ma non riescono ad andare ok quando caterina ha sentito la mia voce in un sogno un'occasione e non sapeva nemmeno chi fossi e poi ha scoperto per caso i video e ha detto io questa voce l'ho già sentita qualche giorno fa e quant'altro che è successo la ps la ps le ha fatta sentire la ps la messa in collegamento con la tua voce deve avergli fatto sentire un pezzo di qualche nostra sessione una frase di una nostra sessione e di anche la frase o il senso della frase il concetto parlava di pulizia era il momento in cui si era nel momento in cui tu chiedevi mi sembra fossi io se era tutto pulito dopo aver buttato via l'avatar se c'erano ancora interferenze era quel pezzo di interferenze tecniche mentali se ok adesso vediamo anche tutto è tutti i disincarnati ma questi disincarnati prendiamo il portavoce un portavoce di questi 15 perché quando noi lavoriamo con i portali aurei al di là del fatto che caterina adesso ascoltare se sono i primano non importa insomma perché questi non sentono il portale auro quando lo apriamo è questione di vibrazione se loro stanno vibrando in quel momento su un altro tipo di vibrazione seguono quella vibrazione di e non e non percepiscono quella la nostra del portale auroreo per quello che non arrivano tutti assieme c'è una questa domanda che non ho mai fatto i disincremati che sono sulla terra hanno un elemento in comune mi spiego un posto no una dimensione è quella eterica però c'è tanto altro quindi non è che c'è una frequenza un range di frequenza il disincremato meno consapevole più consapevole che è sulla terra e quindi in un range di bassa consapevolezza si ha un range che è come una stazione radio no ci sono le stazioni radio che hanno una frequenza ok le stazioni fm sono l'eterico poi ci sono fasce da 86 a 96 i disincarnati da 96 in su l'entità funziona così è proprio il contrario l'entità sono vibrano molto basso ok io disincarnati sono tra 10.000 e 5 tra 500 e 10.000 sulla terra se ok mettiamoci in questa frequenza radio proprio come se fosse una radio prendiamo un microfono e come gli annunci del supermercato delle cassiere portale aureo portale aureo portale aureo tutti fuori portale aureo si sta per aprire in cassa 2 il portale aureo tutti fuori se non riescono comunque arrivare tutti perché è come se alcuni avessero una frequenza che ne so musica palla quindi non senti microfono oppure ha una frequenza no che come se fossero sordi quindi arrivano di sogno sì però non ha tutti comunque ok intanto lo apriamo portale assolutamente io non lo so se tu lo vedi come lo vedo io ma quando lo apriamo è una cosa assurda è di una imponenza fantastico e luminoso è una cosa che se fosse un disincarnato io non potrei non andare lì almeno a vederlo no e più capisco che non è una trappola è semplicemente un posto in cui varcando quella soia mi libero di tutte le interferenze del fatto che sono nonno o nonna io sono energia basta e di lassano energia di là poi decido capisco anche in base a quello che mi è successo e mi sono liberato di nonno nonna del fatto che sono nonno nonno mi sono liberato del rettiliano chi se ne frega di là capisco che mi voglio incarnare non mi voglio più incarnare provare a fare l'albero voglio provare a fare l'insetto e provare a non fare più niente paradossalmente se da disincarnato che non so nulla divento iper consapevole me ne torna la sorgente dico fatevela voi la menata qua posso fare tutto è una situazione di neutralità e tengo ovviamente le mie esperienze le mie informazioni quelle non le perdo non posso neanche si può perdere l'informazione no una un'entità può rubarla no la può solo può cercare di copiarla ma umana perché tra di loro si memoria inattiva ok ma quello è quello memoria aliena attiva però la possono mettere in pratica backup ma questo qua come se fosse scritta ma non la possono non la possono produrre riprodurre cioè come se gli arrivasse l'informazione la scrivo la metto in un archivio l'informazione che ne so certo non è la loro esperienza prendono dei dati ma nella loro esperienza mentre caterina ha fatto l'esperienza le informazioni sua probabilmente caterina può caterino chi per essa può trasferirla a qualcuno di umano sì 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 quello che vedo che è molto semplice che questa cosa qua viene praticamente in automatico e quando mentre in contatto con la fiamma gemella ok proprio per condivisione va bene allora l'abbiamo aperto quindi chiamiamo i 15 disincarnati di caterina analizzare tutti i vari motivi per cui volevano operare le scatole più o meno abbiamo fatto ma non è così importante chiamiamo la nonna paterna e perché risparmiarci perché non chiamare tutti i disincarnati della famiglia di caterina mare quando questo si apre bisogna approfittarne quindi linea materna linea paterna alle grande festa partiamo dai 15 disincarnati vanno tutti lì tutti se sì sì ok troppo forte legame con caterina per dire no grazie esatto e proprio per quello che si sono avvicinati c'era una sono stati attirati dalla sua vibrazione per un motivo per l'altro però sono stati attirati e quindi cerca se del suo parentado quanti arrivano percentuale o il numero anche ne arrivano 36 e sono disincarnati di tre genera quattro generazioni indietro ok non una paterna che non deve entrare ancora dobbiamo vedere qualche dettaglio la vedo molto esuberante nel senso molto attiva molto creativa molto aperta la vedo molto aperta ad ascoltare al dialogo ma la vedi come anziana come giovane si anziana però con i capelli biondi vuole dire qualcosa la nipote capire era molto attaccata al padre quindi evidentemente la madre si è proprio visto che lei era molto è stata molto capace a crescere il padre maniera amorevole e neutra nel senso non vedo che ha mai fatto ganci di possesso rispetto al padre di caterina o cercare di farlo crescere come lei lo voleva no come lei pensava dovesse essere un figlio quindi molto lo vedo che proprio che l'ha accompagnato con amore senza interferire nella sua vita e così anche questa cosa l'ha trasmessa anche a caterina anche con lei molto accogliente molto amorevole proprio accompagnata ok lasciare un messaggio specifico volevo al figlio o a tutti e due sono è stato bello vivere con voi sono sono felice di quello che tu sei riuscita a vedere di te le dice e ora sono felice di andare nel portale aureo ok rimandiamo tutti lì salutiamo la nonna i disincarnati che stavano attaccati a caterina e invece di tutti i disincarnati della terra nel range 510 mila quanti in percentuali si presentano e vanno 40 per cento più meno un numero milione 100 mila 15 milioni lo sono tanti vuol dire che sono 45 milioni no scusa aspetta devo vedere gli zeri perché 15 sono 6 9 0 8 sono a un miliardo e mezzo scusami ho sbagliato agli zeri miliardi netto va bene chiuso capitolo disincarnati perché però caterina li attira perché fatti questi va bene ma il futuro come perché caterina li attira allora perché l'entità di livello 4 interferendo la fa sì che le sue vibrazioni vadano a volte vadano in quel range dove ci sono alcuni disincarnati che vibrano che vibrano come se questa entità di livello 4 controllasse i disincarnati intorno a caterina e importasse si sa portare le sue vibrazioni abbassandole in certi momenti in certi frangenti anche durante la notte così abbassandole a livello in cui ci sono alcuni disincarnati che possono attaccarsi no vanno sulla stessa frequenza e si accorgono di lei come se le alluminassero no nel buio ok impianti eterici e se ci sono elementali notte ricci e te ricidi e li mettono spesso ma poi lei ritoglie riesce a toglierli dimettono togono mette le teorie li mettono e le ritoglie li mettono e ritoglie ce n'è una mentale che è una sfera non tanto grande una piccola sfera al centro il cervello sopra la pineale messo dalla 2 o dalla 4 dalla 4 bene causa soterica di incidenti sono ad action quante sono ne fanno un po anche i sogni vedo che lei quando dice vado viaggio durante i sogni oppure vedo cosa fanno le altre persone sono proprio ad action sempre o a volte non sempre a volte lei va però appunto questa entità di livello 4 insieme a falconi forma perché falconi forma che fa la data action fanno sì che le fanno credere è solito giochi alberato è certo se si lo fanno anche lì questa questa può viaggiare dicono questa fa i viaggi astrali meschiamo glieli faccio nel lato e viaggi astrali poi ci facciamo vedere che sul lettino che le faccio esatto e facciamo vedere che lei può andare da trovare gli amici e se invece in realtà tutto questo d'action sì ok quella volta del motorino allora lei prende il motorino sa che non deve andare già visto l'incidente già visto la macchina che da la precedenza quindi sa e deve andare piano e cade soltanto quasi da ferma dopo che la macchina la prende in pieno eh sì però intanto testo di costruire con l'attaccia eh sì non andare a non andare l'entità metallici si deve andare è una lotta 32 quindi quella che lei sente che l'aiuta e la voce cioè e la voce è l'abduction e sì vabbè è la parte subliminale se stesso discorso del tentato abuso a otto anni a quale trappola andiamo nei dettagli lei scappa ed è riuscita se si arrabbica su per una parete di tipo ragno seduta ma la forza di che ne so arrivare a quella finestra lassù che a due metri le è nata via in otto anni e scappa perché questo era un posto abbandonato no caseggiato più o meno comunque scappa a questa forza incredibile cosa è successo a livello teorico via la ps la ps che ovviamente noi possiamo creare tutto no abbiamo possiamo spostarci col volendo c'è la possibilità di poterci spostare col pensiero quindi se riusciamo ad attivare una certa parte del cervello riusciamo a fare anche queste cose quindi arrampicarsi è riuscita con la ps arrampicarsi su questa parete scappare possiamo passare attraverso una parete sì che grado di cervello deve essere attivato allora per passare attraverso la parete 38 43 il 38 45 per cento ok quindi questo è successo si si arrampicata era riuscita ha avuto un picco di utilizzo del cervello ti descrivo la scena perché non l'ho mai visto ma adesso l'ho visto come se in quel momento lì la ps riesce ad accendere dei collegamenti neuronali ok e attivare tutti attivare tutti i neuroni preposti per fare quella cosa lì ed è arrivata fino al 33 34 per cento in quel momento bene capitolo chiuso vediamo i dati i valori di caterina vibrazione da inizio sessione 75 miliardi consapevolezza 237 psp e rapporto allora all'inizio della sessione era 63 e 37 lei tende spesso andare tanto a far funzionare tanto la ps e questo è un po la è quello che c'è a volte magari usa anche l'ottanta per cento della ps ok e questo può essere se lei non impara a equilibrare un po può essere dannoso per lei perché appunto poi le frequente le interferenze soprattutto mentali possono un po intervenire no in questa cosa nel senso è un 80 20 e tanto e danno e questo apre il barco all'entità mentali perché perché è come se si staccasse un po dalla matrix che ma essendo nella matrix è come se fosse più vulnerabile no stacca o entra non capisco no no allora ti descrivo allora durante la notte quando è tutto spento perché fanno le abduction di notte perché siamo molto più cioè non c'è tutta la parte fisica che agisce e mentale esatto ok e quindi per loro più facile in quei momenti quindi se noi allora potenzialmente potresti usare anche fino a cioè se tu se tu sei cento per cento ps non sei qua ok quindi più ti avvicini il cento per cento più la parte fisica e meno controllabile e quindi se non sei centrato non ne sei consapevole se più vulnerabile a livello è come se fosse a livello di interferenza e come è l'opposto cioè se tu usi il 10 per cento di ps e il 90 per cento di p e sei vulnerabile facciamo una lezione cinale come se la ps è il femminile la vie è il maschile la ps è la testa tra le nuvole la p e è tutte generalizzazioni ovviamente alla p e essere concreti nella vita la p e e la forza e lo spirito e l'energia vitale la ps sentire il cuore non che la p e crudele e la ps è buona ok se sono i nostri guardiani se i guardiani sono uguali sono alla ai buoni della porta la roba un po massonica questa due colonne dei bordi della porta la porta è difficile sfondarla se tutto sia una colonna è molto alta perché all 80 per cento e l'altra è una nana e rotola perché al 20 per cento l'entità ti passa dalla destra e scavalca la la nanorottola e intorno fino e l'ho superata 80 20 e tanto perché fino a che 40 60 vabbè si va bene 3 o 1 c'è nessuno i momenti dovete agire più uno l'altra parte certo da 5 38 inizia a diventare ma 20 e 80 ok questo è molto interessante questo sembra cazzata ma è molto interessante vite precedenti solitamente psp e non c'è non è un grande dato perché poi si equilibrano in caso invece molto interessante vite precedenti 216 però niente è nata con uno dei valori più bassi se quando è nata ne aveva 1430 e ha già asfoltito il cervello ci sono dei momenti dove altamente se vediamo la mia quella media è 10,5 molto alto quando è nata cervello 11 picco massimo tutta la sua vita per la volta la 35 per cento quando è scappata super la verità esercizi che lei può fare specifici per lei allora può usare tipo un test kinesiologico a sua scelta però questo cosa fa fa sì che lei quando comunica con la sua ps però concretizza nella nella materia ok così non va esageratamente quindi arriva un'informazione dalla ps le arriva una cosa del futuro o qualcuno che le vuole parlare così ok lei si ferma e vede quello che la sua ps le dice cioè quindi parla con questo vai la oppure stai qua fai quello quell'altro lei col test kinesiologico concretizza la risposta anche nella materia e questo fa sì che comunque lei segua la sua ps però stando qua e quindi non fa questi picchi dove può essere vulnerabile va bene cause di telecade d'endometriosi è quello è quello lì allora adesso mi sembra che sia molto diminuita la forza ma è una è un contratto che le ha fatto quando già prima di scendere cioè quando è nata ce l'aveva già con questa opposizione c'è quella quelli come se a livello emotivo in questa zona le avesse il desiderio inconscio c'è nel contratto c'è scritto desideri inconsciamente diventare mamma ma c'è molto incontro una roba gestuale esatto ok e quindi se l'è portata per tutti questi anni adesso mi sembra che la potenza di questa cosa sia un po diminuita causa esalti della stanchezza cronica un po questa lotta che deve fare la ps con queste interferenze che è proprio uno dei picchi vibrazionali molto forti c'è degli sbalzi molto grandi e quindi il fisico ne risente lei deve proprio imparare a modulare le vibrazioni e ma di quello che fa di notte ma se cazza cronica non è detto al mattino al risveglio però di notte le fa cose che sono un misto tra cose che farei si 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 c'è tutta questa cosa per capire non ho capito a ok l'esempio più calzante è quello lì tipo dell'abuso sessuale no lei per fare la sua ps agisce deve agire col fisico ok quindi le vibrazioni deve alzare vibrazioni tantissimo attivare il cervello ok e ha fatto quello che ha fatto e poi però c'è ovviamente è stanca quando succedono questi sbalzi ok quindi le vibrazioni si possono alzare senza fatica ma se poi dall'altra parte ai delle interferenze che continuano interferire tu quindi poi si abbassa le vibrazioni allora devi rialzare si abbassa devi rialzare si abbassa non le devi rialzare c'è anche a livello fisico poi è faticoso dell'aumento di peso o tendenza aumentare il peso ecco è come se e te ricamente e te ricamente io la vedo è come se spesso volasse come se fosse un palloncino che vola come se tendenzialmente a livello eterico vedo che è più aria che 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 materia ok come se vola e quindi il peso le serve per tenersi quindi un po il discorso del non saper modulare esatto sì 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 è tutto lì veramente lei con questi sbalzi anche a livello fisico no trovare via la solita ps che ha sempre dei modi molto curiosi comunicare le cose una bella lettera sarebbe un pochino meglio sarebbe molto meglio vabbè scarso interesse per la vita di coppia essendo la consapevolezza media che si vede in giro praticamente nulla quindi questo la fratica più che altro se c'è una causa esoterica della sua omosessualità l'esperienza che ha scelto no no assolutamente ci sono due case quella in cui vive adesso quella in cui viveva prima che è sua da quella quale è dovuta scappare perché si sentiva oggetto di grandi gran numero di abduction e perché c'era un disincarnato c'era disincarnato c'è c'era no semplicemente dov'era prima ce n'erano più intorno come se nel terreno quel terreno lì prima che costruissero quella casa lì c'erano c'è stato un incendio allora vedo 45 persone morte in un incendio in quel posto di prima che costruissero la casa e quindi sono rimaste lì quindi non era legato alla casa ma al terreno ce ne erano 4 e 5 perché ce n'erano non ci sono più sì nel senso sono lì non sono dove abita adesso quello che devo dire ok non sono stati richiamati dal portale di prima ma guardalo no no nessuno tutti li sono ancora lì portale auro via ma è vero che ci sono stati questi suicidi se c'è due sono di quei questi seguisse ok lei è quella saggia tutti le chiedono aiuto lei sta cosa non la sopporta lei ha fatto un'ipnosi a una persona perché c'era di mezzo un disincarnato che non si staccava più adesso francamente non ricordo se era attaccato a quella persona oa te a lei quindi disincarnato si è attaccato a lei però era dell'altra della sua della ragazza in modo che lei gestisce la cosa cosa è successo in quell'occasione più sergito a staccarlo dici sì 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 è riuscita a staccarlo lo vedo è riuscita anche a all aiutato andare oltre però il fatto che lei abbia fatto parlare con con la ragazza questo ha creato un enorme portale energetico e questo ha fatto sì che la ragazza fosse c'è quando quando si fanno queste cose qua si apre un portale incredibile se uno non è consapevole attira un sacco di interferenze anche cioè che si attaccano proprio ok allora a lei non sono riusciti a attaccarsi perché va beh a una certa vibrazione però si sono attaccati al disincarnato prima che lei lo mandasse via e si sono attaccati alla ragazza quindi il pericolo è proprio questo quando si fanno queste cose adesso prima mentre lo raccontava quindi disincarnato è andato ma la ragazza ha più entità se adesso una in più chiamiamola del cinema e disincarnato chi era scusami uno che passava al padre padre no ok di caterina dice che il padre era il padre venuto nonno ok chiamiamo il nonno e il padre perché dici di no caterina ha parlato ti ha detto delle cose scrivi 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 nel skype scrivi skype chiama il padre il nonno questa cosa quello attaccato alla amica e dimmi di melena ok allora è morto da poco il padre della ragazza che mi sembra che dicesse ma quello che vedo io è che a lei si è attaccato il nonno e gratti a causa dell'interferenza di livello 4 ha fatto credere che fosse il padre che era appena morto ok lei ha proprio visto una visione ha visto questo padre poi ha visto una foto ha detto sia lui vabbè chiamiamoli tutti e due sia come sia sia solito inganno era nonno ma di fatto di mezzo c'era il padre nonno scusami il padre di lui si portale aureo e via se vogliono lasciare un messaggio a questa ragazza lo possono fare ha detto il ferito con caterina non lo possiamo fare se tranquilla bene se tranquilla noi stiamo bene adesso stiamo bene vanno nel portale quale era l'intento del nonno arrivare a questo sì no no si voleva come se avesse preso tutti e due sia il padre che il nonno hanno hanno vibrato sulla vibrazione di caterina no quindi sono stati attirati da caterina ma nono si è attaccato e avrebbe voluto parlare a caterina e con le interferenze però dell'entità mentale ha confuso l'idea di caterina perché la ragazza voleva parlare col padre e quindi hanno fatto credere che lei poteva aiutarla per il padre ok per far sì che caterina sia portata a fare questa cosa di più no la solita enfasi poi caterina ha delle capacità ai valori pazzeschi esattamente vanno pettinati questi capelli arruffati vanno perché il gioco non è proprio un gioco non è uno scherzo non prevede l'improvvisazione magari che ne so magari faremo delle cose insieme caterina ok e quindi una chiaroveggente sì sì che aveggente secondo me quello che vedo io che se si allena in poco tempo pochi mesi dice a spostare gli oggetti se dovesse questo potrebbe essere un buon esercizio per decine riordinare sì perché lavora sulla materia la stalla già sulle è già successo senza volerlo e no deve allenare così ma che ricorda mi caterina poi un link ricordati tu però devo darti un link ricordati tu io non mi ricordo più niente quindi mi raccomando si allena così riesce a tenere equilibrate la ps la p e ok sogni per monitori lei li fa davvero sì sì anticipa eventi sì 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 quello allora se lei lo focalizza bene se prende la prima informazione si allena ea tenerlo molto concreto e quelle informazioni sono pure e sono sue ok 111 lo vede spesso comunque un numero importante è spesso il numero della ps lo vedo spesso lo vissero anche ieri c'è successo era sempre quei numeri di ieri a svirgolato dal titolo di quello dell'album di quella vabbè l'hanno preso apposta balla cade da dietro cade indietro qualcuno la tira indietro ma dietro non c'è nessuno che lei e brilla anche lì voleva uscire non voleva uscire in realtà non voleva uscire ok chi è che la tiro indietro però a livello eterico fanno fisicamente c'è chi chi falco sì 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 falco fatto chi per esso e se ogni pantone anche da lì lei poi si fa male resta casa c'è un lavoro su di sé che la fa evolvere è sì c'è qualche ritmo trova si fregano sempre con le loro mani però ci trovano è una palla ok capacità mediani che di caterina quindi chiaroveggenza chiara udienza segnere cinesi sì sì quella può esercitarla facilmente sogni per monitori può leggere le fare quello che fai tu sì sì sente energie dice ecco che se quindi non so se a un termine specifico sento anche io le leggiamo non so se se c'è un termine specifico non lo so tu magari lo sai luce è una remote viewer lei dice è lì bisogna stare attenti con le etichette perché ritmo viewer non sempre è una roba cosa intende perché l'etichetta di remote viewer spesso io vedo che non è che sia una cosa usaremo stesso interferito allora già usato che vede mai usato esatto no lei dice se vuole vedere solo vedere mia sorella io vedo dove sta che bagno che fuori che cammina in al bagno prende capello con un'amica e girare quello non è però rimotivano che scenari futuri eh sì però in maniera interferita c'è usato esatto come dicevo prima no a per scopi da secondari i nostri amici oggi non sono venuti perché è carini forza di tirare l'acqua si si iniziano a esistere e tira la oggi tira la domani anni tra vc e nei tra vc ovviamente hanno smesso di venire a rompere le balle una bella sessione senza cali di connessione ok beh che cosa vuole fare caterina si crea una d'eterno ma vediamo se lo fa fatto ok andiamo con caterina che ci accompagna dove vuole allora stiamo andando al cluster per vedere cosa c'è punto quello che la seguiamo no sì sì certo sì ci sono questi quattro contratti quello del dell'endometriosi quello col falconiforme per l'add action questa cosa qua e quelli e due quelle due entità mentali di questa vita e poi ci sono le altre vite qua rivedo proprio come se fossero dei fogli un po più spessi però con delle scritte nere proprio come se fossero contratti raramente vedo così ma questa volta sì ma quanti sono questi contratti allora in tutto 400 ok su 216 vite facciamo finta che siano 216 così facciamo prima ipotizziamo prima erano 1430 ma lei quando toglie delle vite toglie anche dei contratti e quindi lei sa già cos'è il cluster lecce già andata cosa ha già intuito se ci va no no è come se allora se tu lavori su di te ok ti centri e la ps agisce quindi finisce l'esperienza nel momento in cui finisce l'esperienza viene tolta la vita e viene tolto il contratto dal cluster in automatico ok via tutto è quella di termine ad eterno che si è creata lo può lasciare lì si vuole senza messa come spiegavi spiegavi ieri è come se questa fosse una stanza con le finestre dove ci sono due o tre candele che la illumina lo illuminano e tre lucine piccoline quando tu metti la d'eterno nella stanza da fuori è come se ci fosse una luce pazzesca che esce da queste finestre ed è eterna e resta lì voglio vederla io un'entità che trova l'escamotaggio per mettere un nuovo contratto dentro siete vicina col suo fogliettino con la manina tremante e appena entra il contratto se ne va quindi cioè è un guardiano che fa tutto da solo ed è tuo hai creato tu questo caso l'ha creato caterina dovrebbe evitare queste cose perché sono per interessanti ok andiamo all'avatar mentre andiamo all'avatar saltellando come cappuccetto nel bosco aveva dei cloni caterina sì ce n'è un ce n'aveva uno ce n'è ancora adesso per ottenere ma ce n'è a uno che lo usano quando durante l'addaction però è fermo lì diciamo è un accumulatore di dati di caterina ok è già saltato coi contratti sì però è come se rimanesse la memoria finché non togliamo le cose dalla piccata diamo l'avatar ma come se rimanesse la memoria come catrina eruente a volte perché non lo è adesso lavata quello che ha dimostrato di dimostrato quello che ha controllato tutte le sue vite l'avatar le ha mandato degli uomini del tempo che non le hanno fatto incontrare la compagna giusta ma lei ha fatto incontrare solo quelle rincoglionite con rispetto parlando sì certo no beh però prima è detto tutte rincoglionite le detto tu e io ripeto o se tutte le guardano la scarpa il cappello ma che bella la tinta che ti sei fatta oggi cioè ce ne fosse una consapevole diceva lei anche solo un minimo c'è un uomo del tempo che lui simpaticone li ha mandato c'era fino a qualche tempo fa l'ha eliminato c'è eliminato in automatico quando fa secondo me più o meno dopo quando dovuta stare ferma che si rotta al cocci gel sacro più o meno quel momento lì quando ha lavorato su di sé è riuscita a mandare via con l'interferenza di quindi adesso da molto più possibilità di incontrare cosa fa con questo avatar ha aperto portale definitivo c'è una piccola parte c'è era molto grande e c'è solo una parte un quarto direi il quarto superiore destro tipo fetta sempre sempre immagina una torta a forma di uovo uomo a volte quando avete già fatto un lavoro c'è una fetta manca tutta una fetta a volte è una fetta così proprio quindi della torta uomo tu hai come un taglio e ci sono proprio dei pezzi quasi anche staccati questo caso la testa rimasta metà testa diciamo il quarto a un quarto è così una l se una lama l che taglia esatto al centro della testa un pezzo di spalla diciamo via tutto ad eterno ok poi facciamola scatenare cateni caterina altri 5 ad eternum uno se lo mette nel corpo fisico dove se lo mette e lo mette alle endometri bene uno se lo mette nel corpo emozionale e lo mette al posto della emozione a bassa frequenza che più le che più aveva o più o meno qua vedo un po solitudine un po c'è la solitudine beh conseguenza fai no con la testa caterina per la conseguenza della fatto che non è che proprio e no non era una roba in tutto caso l'emozionale non era ci devo quindi c'è subliminale ok non c'è un punto perché il minimale sembra una eterico e mentale eterico lo mette qua più o meno sul lato destro del collo e mentale lo mette doveva l'impianto di sopra la pineale esiste la fiamma di caterina no però esistono delle anime affini dov'è la fiamma nata no sta su rimasta su anime affini quanti sono quante sono ce ne sono dieci sparse per il mondo ce n'è una di vicino c'è una ma forse in toscana toscana sono anima gemella anima fine attenzione 10 sono tante si spasta il mondo con una legge di essere già stata ma non si muove dalla sua condizione di consapevolezza basso la vedi non so se quella che vede in toscana adesso in questo momento in toscana vabbè se volesse caterina può tornare alla sorgente la tecce viaggio ecco vedo che come se così quelle condizioni di oggi ok facendo tutto il percorso con la massima consapevolezza la massima evoluzione di questa vita andando dritta vorrebbe diciamo tra virgolette nell'idea delle esperienze che vuole fare ancora è fare un'altra vita con libera di avere tutte le capaci tipo da come una ps delle ps in più con le capacità mediane che da poter utilizzare come vuole ma buona tricks cioè non serve la fiamma no 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 ma che abbia spiegato a qualcuno questa cosa no non è per forza e le 10 bene bene le 10 anime gemelle affini di caterina sono tutte donne chiamano le donne no ce ne sono 33 sono donne che amano le donne gli altri set sono uomini tra cui 4 da 5 uomini che vogliono proprio che sono vetro quindi vorrebbero la coppia e due come amici c'è più un'amicizia due gay se uno c'è da già appunto e la domanda voleva essere vabbè ma un uomo etero se lei lo incontra le assolutamente sa sempre saputo assolutamente super serena pride sarebbe cioè sarebbero amici lui innamorato e si è contenta di essere amico ecco la vedo così perché è talmente tanta l'affinità che si troverebbe bene no quindi anche liberi di dichiararsi una lei omosessuale lui etero innamorata vabbè no vabbè un po malata come cosa è certo però ma le sue capacità sono legate alla sua omosessualità domandaccia quello che dicevamo fuori dalla registrazione si aiuta nel senso è concentra scelto meno se lei l'ha scelto è di fare questa esperienza così perché porta ad avere più tempo quindi focalizzata la possibilità esatto più focalizzata e anche la sensibilità no parti già da una certa sensibilità con questo a meno ostacoli e più a più opportunità essi voglio dire solo deriduttivamente tempo no a più non farti l'input è proprio più aperta mentre trasti e più quindi magari più non che questo voglia dire che quindi ha una macchia e più gli altri no l'etero sessuale ha detto se fare no però è più semplice più semplice l'entità l'anno ostacolata sul fronte omosessualità quindi odio questa adesso vuole diventare omosessuale saper scendere no vuole vuole fare la vita da omosessuale che facciamo questo l'aiuterà hanno cercato il contratto dell'endometriosi si quello è stato uno di un modo attivi un tentativo sì e poi non può dire niente perché adesso vuole povero un figlio è fatti se però ti guardia però anzi ancora più complicato che se sei etero in quel caso nuova frequenza tremo 370 miliardi ok percentuale di consapevolezza 283 rapporto psp 70 e 30 e tendenzialmente vanno però si riequilibra e va se per lei fa quello che le ha detto di esercizi da fare lei ce la fa vite 180 cervello 12 2 però due punti è stabile no torna un po giù vedo che può stabilizzarlo in poco intorno all 11 13 ok non te lo chiedo ma entità cloni abduction le tira mentali piccoli impiantucci beh l'ultimo l'unico impianto era quello mentale qualcosa non ha messaggio finale segui cerca di allenarti proprio a unire la parte concreta materiale a quella medianica quella con le tue doti e così non sarai più in pericolo di interferenze e riuscirai a se vuoi ad aiutare supportare le persone ma in maniera pulita in maniera non pericolosa e quando loro avranno la necessità e saranno pronti e disponibili cerca di seguire consigli che che ti abbiamo detto sono le due psp che parlano come le vedi le due pie le apse da pie allora allora sicco lei è perché non è sempre uguale erano una cosa unica nel senso la pie la ps nella pie che sovrapposto poi nel comunicare come se si fossero un po aperte è presente quando l'energia c'è un'immagine dell'energia della terra no quando fa il toroide che si apre si chiude no poi si sovrappone poi si apre un po che si sovrappone so se presente ok fanno questa cosa qua è come se quando devono interagire si aprono un po che è come se è come se il campo si ampliasse e quando invece non devono interagire devono ascoltare stare si chiudono insieme ok è come la vedi la vedo alleggerita la vedo che va su un'altra lena che si è costruita a livello eterico da costruita proprio a livello eterico ok abbiamo finito modo tornare se disconnettiti da tutto e tutti e noi torniamo